Oggi siamo a... Chieti! A Chieti proviamo i prodotti tipici abruzzesi. Qui prendiamo le ferratelle. Noi qui dobbiamo assaggiare i prodotti tipici abruzzesi. Proviamo le ferratelle. Sembrano dei waffle, ma non lo sono. Guardate che bella! Fatti. Buona! Buona la ferratella. Sembra... È biscottosa. Porta Pescara. Piazza Valignani. Con il Teatro Marrucino. Siamo in Corso Marrucino. Stiamo scoprendo insieme Chieti in... Abruzzo. Qui sotto i portici c'è lo storico bar Caffè Vittoria. Il Palazzo De Maio. Largo Giambattista Vico. Elegante questo scorcio con la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Poi ci giriamo... La Chiesa di San Domenico. Piazza San Giustino. Ci sono i lavori in corso. Facciamo una panoramica sul Duomo di San Giustino. La Torre Campanaria. San Giustino è il patrono della città. Molto particolare la cripta. Qui sono custodite le reliquie di San Giustino. In Piazza Mazzini. Che bello passeggiare in questo parco in totale relax. Villa Frigeri. Qui c'è il Museo Archeologico Nazionale dell'Abruzzo. Bella la villa comunale, vero Daniela? Sì, mi piace molto. Ci sono tantissime tartarughe e pesci rossi. Che spettacolo. C'è il piccione che si riguarda. Il Monumento ai Caduti nella Villa Comunale. La Chiesa Santissima Trinità. La Chiesa di San Francesco al Corso. I Resti del Teatro Romano. La Chiesa di Sant'Antonio Abate. In Piazza Garibaldi. Ciao Chieti, da dove al sud? Ciao da Daniele e Daniela. Ciao.